Il nostro Transformate Prime, grazie al processore Tegra 3, permette di gestire file e programmi di foto editing e di video editing. Dal punto di vista del foto editing vi faccio vedere due programmi, uno è Snapseed e l'altro è Photoshop ottimizzato per il touch. Per quanto riguarda Snapseed c'è la possibilità di scegliere, una volta che è stata caricata un'immagine, c'è la possibilità di scegliere un effetto, per esempio selezioniamo black and white e tramite il movimento del dito è possibile scegliere nello specifico l'effetto del contrasto oppure grain o brightness e muovendo sinistra e destra si aumenta e diminuisce l'intensità. Per esempio utilizziamo la parte di contrasto, come potete vedere è estremamente semplice, intuitivo e anche simpatico. Un altro programma per poter fare il photo editing è Photoshop ottimizzato per il touch. Anche qua bisogna caricare un'immagine, un video, in questo caso cariciamo un'immagine, per esempio questa. Possiamo scegliere la dimensione del tratto e poi la sfumatura del tratto, selezionare il colore e a questo punto disegnare. Poi si può inserire anche un effetto, qua si modula l'intensità dell'effetto, quindi per esempio questo è un risultato. Faccio vedere un'altra cosa simpatica su Ice Cream Sandwich, per chiudere un'applicazione basta fare così. Un altro programma che permette di lavorare in questo caso con i video, si chiama PowerDirector, in questo caso io ho già creato un video in precedenza, per esempio questo, lo posso inserire all'interno di PowerDirector, scelgo uno stile all'interno del quale inserire il video, per esempio prendo questo e in automatico il programma mi compone il video inserendo all'interno dello stile. Posso aggiungere anche, come potete vedere comunque il risultato è apprezzabile, e posso inserire anche della musica di sottofondo e mi posso salvarlo in alta definizione, in media definizione, oppure in basso definizione. Questo è un programma precaricato da Asus? No, allora questi sono tutti i programmi che si possono scaricare, alcuni dall'Android Market e altri invece dalla TegraZone. Alcuni sono a pagamento, altri a free. Una cosa importante secondo me è sottolineare che queste performance dal punto di vista di foto editing sono dovute a un miglioramento del processore Tegra 3, perché una parte del chip è stata migliorata, che è quella che gestisce le immagini e i video, è stata migliorata di tre volte rispetto a Tegra 2. Quindi in questo modo permette di gestire sicuramente delle fotocamere da 8 megapixel fino a salire in vidi a 10 fino a 32 megapixel. Benissimo, grazie molto. Oppure, ma più semplicemente, dato che parliamo di mobilità, utilizziamo la tastiera virtuale. Ma non solo, parliamo di ambito educational, anche perché abbiamo la grandissima possibilità di inserire foto, se le prendiamo dalla nostra galleria e quindi abbiamo delle foto già precaricate, oppure abbiamo la possibilità di fare delle foto istantanee sul momento e quindi visualizzare la lavagna dove il professore ha scritto tanti tanti appunti, oppure addirittura registrarlo, perché il Transformer Prime è dotato di una videocamera da 8 megapixel con anche l'audio che quindi ci permette di vedere e sentire tutta la lezione del professore. Poi paghiamo il diritto d'immagine. Inseriamo una nota. Cominciamo a lasciarci questo impegno. E questo è il nostro disegno, che va benissimo per la scrittura, va bene per la fotografia, va bene per il video, ma è anche una sezione dedicata esclusivamente al disegno, quindi ci permette di fare dei disegni anche di ottima qualità, beato chi ne è capace. Siamo adottati di questa qualità e ci permette nell'immediatezza di fare degli schizzi, quindi è importante per dei progettisti, per dei designer che davanti a un cliente, davanti a una potenziale vendita, fanno il loro schizzo e immediatamente lo possono anche condividere, perché questo progetto può essere inviato via mail, condiviso con il clouding, quindi con gli 8 giga di web storage, oppure con i social network, di cui oggi parliamo tanti, va di Facebook, Google e via di certo. Questo è il servizio Super Note, quindi? Esatto. Perfetto.